Salve a tutti ragazzi, oggi finalmente dopo giorni e giorni di neve possiamo tornare a far volare il nostro Mavic Air quindi andiamo a farlo volare, destinazione lago di Pusiano Ragazzi siamo arrivati dalla location dove far volare il nostro drone andiamo a far volare il nostro Mavic Air Grazie a tutti 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 Grazie a tutti